Una evidente manomissione fatta da tempo tramite un ponticello elettrico per consentire all'orditoio di funzionare con la saracinesca alzata e moltiplicare così la velocità di produzione. Non solo, anche un uso non conforme del macchinario. Per la presenza di una staffa fortemente sporgente anziché una con superficie esterna liscia come previsto e fornito dal costruttore. La stessa staffa su cui restarono incastrati i vestiti di Luana poi stritolata in una morsa. A quattro mesi di distanza da quel terribile incidente, nuovi particolari emergono sul caso di Luana Dorazio, l'operaia di 22 anni morta mentre lavorava su un orditoio in un'azienda tessile di Montemurlo nella provincia di Prato. Una tragedia che secondo l'ingegner Carlo Gini, incaricato dalla procura di analizzare il macchinario, non si sarebbe consumata se nella ditta fossero stati rispettati i più elementari criteri di sicurezza. La funzione di sicurezza della sala cinesca era stata completamente disabilitata, scrive l'ingegnere, per cui l'operatore poteva accedere alla zona pericolosa anche in modalità automatica senza alcuna protezione. Riguardo alla staffa sporgente, peraltro sprovvista di protezioni, avrebbe amplificato il rischio derivante dalla manomissione della serranda. Circostanza che la madre di Luana, Emma Marrazzo, apprende tra lacrime e singhiozzi scorrendo le 69 pagine della consulenza. Non ci sono parole come si può morire in questo modo nel 2021, ha ripetuto, se l'azienda avesse preso le precauzioni necessarie. Luana non sarebbe morta, chiedo una presa di coscienza.